I campionati dilettantistici entrano nel vivo. Con il girone discendente ogni partita diventa di vitale importanza per raggiungere la meta sperata. Quindi, nella quarta serie, per Tiger 2 Torri, le gare contro Frattese e Montalto varranno doppio. Certo, tra le due, il compito più facile è senza dubbio per l'undici di Antonio Venuto, che a Lenzo Vasi ospite il vice fanalino Montalto Fugo. I tre punti sono alla portata dei Pirainesi, che però ancora attendono il pronunciamento del giudice sportivo sulla gara con la Gioiese per alcuni tesseramenti effettuati con il mercato di dicembre. Un'attesa snervante che ovviamente condiziona il lavoro settimanale del tecnico di Villafranca. Impegno molto difficile, invece, per la squadra di Santino Bellimbia, che in terra campana cerca almeno il minimo sindacale per poter continuare il cammino verso la salvezza. I brolesi confidano nella vena realizzativa di Claudio Sparacello, fresco di convocazione, con la nazionale di categoria per la Coppa Carnevale, per riuscire quindi nell'impresa. Nel campionato di eccellenza tutta l'attenzione è per il derby tra Milazzo e Igea Virtus. Al Marco Salmeri ha atteso il grande pubblico, ma in campo mancheranno tanti protagonisti, da una e dall'altra parte. Infatti, in molti dovranno accomodarsi in tribuna perché squalificati o infortunati. Nel torneo di promozione sono diverse le guerre che si disputeranno questo pomeriggio. Domani proscenio per Sant'Angiolese Merì, Mamertina Città di Sant'Agata e Castelbuono Stefanese.